Per me è un grande onore essere qui a Chieti e sono molto felice di essere in questo club che è un club che c'è storia e è molto importante e mi sono trovato sin da subito bene sia con la città, con la piazza, con la squadra, con i miei compagni, con lo staff tecnico e con la società che mi ha dato questa grande chance. Sicuramente giocare con giocatori così forti ed esperti si migliora giorno dopo giorno ma sicuramente le occasioni sono state tante e potevamo sfruttarle meglio. C'è stato il primo caldo e si è fatto un po' sentire però tutto sommato è stata una buona prestazione abbiamo avuto moltissime occasioni e c'è un po' di rammarico quindi comunque sì però comunque ci teniamo stretto il punto ma sicuramente sarà una partita tosta loro sono una buona squadra molto ringhiosa e noi non saremo da meno. Ma ovviamente non dipende solo da noi ma anche dalle squadre che stanno su a due punti come Senigallia e noi ci concentriamo partita dopo partita e il nostro obiettivo al momento è andare a Monterotondo e fare bene e cercare di portare a casa i tre punti.